Un'auto uscita di strada e si è ribaltata in mezzo a un campo. È accaduto nella mattinata di domenica 28 marzo intorno alle 11 sulla 4.60 nel comune di Rivarolo Canavese. Un 26enne di Rivarolo ha perso il controllo della Seat Ibiza che stava guidando, la quale uscita di strada e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea Rivarolo Canavese, la croce rossa di Rivarolo, l'elisoccorso e il 118 dei carabinieri. Il giovane è stato estratto dalla lamiere dell'auto e fidato alle cure del 118 che l'ha trasportato all'ospedale di Ciriè. Non è in pericolo di vita. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri pare che fosse in fase di sorpasso e che nel rientro abbia perso il controllo della vettura. Grazie. Grazie. Grazie.